Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna a causa di un incidente ci sono 3 chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Per lavori sono inoltre chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla Fipili per lavori un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa in direzione Firenze. Rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 2 Cassia è chiuso per lavori lo svincolo di Montalcino in entrata e uscita in direzione Siena. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!